Milano. Giovanni Sabattoni è nato a Cusano, Milanino, il 17 marzo del 39. La sua storia è il primo italiano che ha avuto fortuna nella vita ma che non ha ancora finito di vivere sulle varicate. Perché non bisognava vivere sulle varicate? Perché non bisognava ammettere di lottare che nonostante sia per compiere i 72 anni non ha nessuna intenzione di andare in pensione? Perché non mi interessa quello che ha fatto ma quello che riuscirò a costruire, dice il filosofo, la forza dell'uomo è nel futuro. La forza dell'uomo sta lottando ormai, però c'è anche scritto che forse si tornano nazionali perché è buono. Grazie. Via signore, rivederci. Prego. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.